Un anno ricco di eventi e di iniziative per il Fotoclub La Chimera di Arezzo, ripercorso durante una cena conviviale per lo scambio di auguri e gli accenni e progetti per un 2019 in cui lo storico club aretino, custode della memoria fotografica di Arezzo e polo attrattivo di tanti appassionati, saprà catalizzare altri grandi appuntamenti. Dopo un anno di successi degli artisti del Fotoclub La Chimera, la cena appunto di salute e di auguri di fine anno e di Natale, e quindi la parola a Glauco Ciacci per finire questo anno. Sì, è stato un anno effettivamente piuttosto intenso e interessante. Noi siamo qui uniti con questa cena conviviale particolarmente riuscita. Io vi invito tutti a venire a vedere la mostra di Aldo Luttini sui nostri cieli, sui nostri astri che ci illuminano e che durerà fino al 6 di gennaio. Auguri a tutti! Ciao! 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 Ciao!